Io dico che abbiamo fatto una cazzata Tu hai preso questa casa senza chiedermi niente Mi ami ancora? Ma che cazzo dici? Che domanda è? Io ho incominciato a sentire rumori già dalla seconda settimana Forse erano quelli del piano di sopra Questi non sono rumori Vi darò questa casa a metà del prezzo Ma quella porta blu non deve essere aperta per nessun motivo E' strano, no? Quelle sono porte che non si devono aprire Dimmi perché quella porta blu non deve essere aperta Ma quali con... Rispondimi! Ci troviamo di fronte ad una situazione anomala E di notte che succedono le cose più strane E mi lasci qui solo? Tanto per te questa è una casa normale Sto solo cercando delle giustificazioni plausibili Visto che qui non facciamo altro che tirare i bali fantasmi Apriamola Grazie a tutti Grazie a tutti